Presidente Bettoni, in che modo una maggiore conoscenza del fenomeno, anche attraverso i dati, può favorire il ruolo dell'Inail? Aiuto nelle politiche e nelle scelte da fare nel futuro sul tema della disabilità, ad affare, soprattutto per quanto riguarda gli infortunati Inail, ma soprattutto tutto quello che si fa a favore degli infortunati Inail, poi nella ricerca, nella costruzione delle protesi, degli ausili, va a vantaggio di tutti e ci aiuta a darci una marcia, una direzione. Presidente Bettoni, eventi come quello di oggi, quanto sono utili per promuovere i diritti e il benessere dei disabili? Sono importantissimi perché ci aiutano a fare squadra. Noi abbiamo fatto squadra, come diceva il Presidente Pancalli, Istat, Comitato Paralimpico e Inail. L'abbiamo posto alla politica, alle istituzioni, al Capo dello Stato che l'ha condiviso e questo può essere un modo importante per arrivare a raggiungere obiettivi che diano alle famiglie e ai disabili veramente quell'attenzione e quella serenità e quei sostegni veri che hanno bisogno.